So this is Christmas Il dottor Paolo Pasquali, specialista in ortognatodonzia, e la sua equip, staff professionale con specialisti in ambito odontoiatrico, ringraziano la gentile clientela che in tutti questi anni ha dato fiducia, stima e affetto, favorendo il successo della loro professione. I migliori auguri di buone feste da Dental City, studio dentistico specialistico e CityMed, studio medico polispecialistico. A Sforza Costa, via Tano 62, a Tolentino, via Domni in Zoni 3, a Monte Cassiano, via Mainini 79.